Buon pomeriggio amici telespettatori e benvenuti su S-Cup TV per il terzo match della nonna giornata. Si affrontano i River Petty contro i Galacticos, arbitra Stanziano Sergio. Stiamo servendo il saluto al pubblico a corso fin qui per seguire la propria squadra del cuore e poi lo scambio di strette di mano tra calciatori e arbitro. Tutto pronto a meno del tocco che si terrà adesso. Ok capitani faccia a faccia. Che più giovane che anno sei? 95. Non so veramente. C'è tu il fischietto allora per il campo. Campo a te valla loro. Che campo vuoi? Dunque darà inizio al match i Galacticos che attaccheranno da destra verso sinistra i vostri teleschermi. Ci vediamo P.L.I. Iniziamo il primo tempo tra River Petty e Galacticos. Proprio adesso i River Petty passano in vantaggio con un bellissimo diagonale. 1-0 dunque per i River Petty. 2-0 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 dunque per i River Petty. Inizio di secondo tempo tra River Petey e Galacticos, è arrivato Fulminio, inizio di pesa il gol dei Galacticos che si portano in vantaggio per 2 a 1 dunque, partita in salita per i River Petey. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!